Tutto è partito dalla nuova prova, ricompensa che il grande fratello VIP 6 ha assegnato ai concorrenti per questa settimana. Nel momento in cui sentono suonare una sirena, devono lasciare tutto quello che stanno facendo in quel momento, per correre verso un pulsantone allestito nella casa e dovranno premerlo per acquisire il budget per la spesa settimanale. La prima coppia che è stata scelta per questa prima era composta da Davide e Soleil. Questo pomeriggio, quando è suonata la sirena, Soleil per riuscire a svolgere la prova nei 30 secondi previsti, ha lanciato in maniera un po' maldestra il bicchiere che in quel momento aveva tra le mani. Non l'ha appoggiato, l'ha tirato. Se si spaccava ci andava tutto in faccia, ha sbottato in un primo momento Raffaella, che, successivamente, ha avuto modo di parlare direttamente anche con Soleil e tra le due dippone si è accesa la lite verbale in casa. Secondo me siamo arrivati tutti ad un limite di sopportazione. Ha ammesso la sorge discutendo con Raffaella e aggiungendo che a questo punto del gioco qualsiasi cosa sbagliata viene considerata grave e inizia a dare fastidio. Me lo ha buttato, se si spaccava mi andava tutto in faccia. Mi sfregiava tutto, ha sbottato ancora l'affico decisamente furiosa per il gesto dell'ex volto di uomini e donne.